Musica Sarà un'estate molto intensa sotto il profilo degli impegni sportivi, quella che attende l'Italia maschile del Beach Handball per iniziare a prepararsi al meglio la Nazionale ha calendarizzato alcuni stagi di avvicinamento. Per il primo raduno è stato scelto l'Abruzzo. Gli azzurri guidati dal tecnico Vincenzo Malatino sono stati una settimana a Chietiscalo, domani la partenza presso il Planet Beach, struttura che già a febbraio ha ospitato la Nazionale di Beach Soccer. Malatino sta lavorando su un gruppo di 19 atleti. Lo stagio avrà la finalità di creare una prima intelaiatura della squadra che porterà l'Italia ai campionati europei in Polonia, dove dal 2 al 7 luglio saranno 20 le formazioni ai nastri di partenza. Quindi è ad agosto spazio ai Beach Games, cioè giochi nel Mediterraneo, che si svolgeranno in Grecia. Per conoscere un po' di più questa giovane disciplina nata in Italia ad inizio anni 90, sentiamo il tecnico della Nazionale Italiana Vincenzo Malatino e il responsabile dei Beach Handball Italia Massimiliano Bardini. Stiamo facendo questo stagio di allenamento. È una nazionale che parte da zero, sono tutti elementi nuovi. C'è un paio di elementi che vengono dalla nazionale Under 18 che ha fatto le Olimpiadi giovanili a Buenos Aires. È una nazionale sperimentale per ora, però devo dire che con il lavoro che stiamo facendo ho visto dei miglioramenti notevoli in questi giorni e spero bene in futuro di raccogliere dei frutti. Malatino, parliamo un po' del vostro girone. Siete inseriti insieme ad altre nazionali, quali? C'è la Croazia, l'Ucraina, la Svizzera e la Macedonia. Solo la Croazia è la nazione che disputa molte finali, quindi chiaramente è una nazionale che è ben allestita, ci sono dei giocatori anche di esperienza ed è sicuramente... partono con molto più vantaggio rispetto a noi che la nostra è una nazionale che parte da zero. Ecco, ma qual è la formula di questo girone? Vengono qualificate soltanto la prima squadra o anche la seconda? Allora, sono quattro gironi e praticamente passeranno le prime due e chiaramente le prime due poi faranno gli ottavi di finale fino ad arrivare poi alla finale. E poi ci saranno i main round praticamente dal nono fino ad arrivare al sedicesimo posto. Si diceva è stata molto calda perché poi ad agosto ci saranno anche i giochi del Mediterraneo. Sì, i beach games in Grecia quindi saranno una manifestazione molto... anche lì forte perché chiaramente i beach games stanno prendendo molto campo, sono i giochi del Mediterraneo degli sporti sulla sabbia e chiaramente è una manifestazione che lì dobbiamo puntare a un risultato buono. Proviamo a fare la fotografia del beach handball in Italia. A che punto siamo? Ma il beach handball diciamo in Italia siamo ancora un po' sperimentali diciamo così perché poche squadre tipo la mia ex squadra il Grosseto si era dedicata al beach handball altre squadre sono praticamente lo hanno solo praticato in manifestazioni estive. Dobbiamo lavorare nel beach handball. È uno sport che diventerà olimpico. Noi abbiamo già fatto le Olimpiadi giovanili quindi chiaramente ci sarà da programmare per poter arrivare a uno sviluppo diciamo del movimento e praticamente a risultati a livello europeo e mondiale. Noi da Abruzzesi naturalmente siamo contenti che la nazionale di beach handball sia qui nella nostra regione. Come avete trovato l'impianto in cui vi state allenando? Ma io lo trovo idoneo, molto buono. È un impianto dove ha una buona sabbia ed è un impianto che serve, che dà, come si dice, ai ragazzi gli dà conforto perché gli spogliatori sono adiacenti e poi abbiamo l'albergo vicino quindi per noi è un impianto più che utile e più che idoneo. Massimiliano Bardini è il responsabile del beach handball Italia. Prima con il tecnico della nazionale Vincenzo Malatino abbiamo parlato, ci ha accennato al fatto che questa è una nazionale in fondo sperimentale arricchita anche da alcuni giovani che hanno ben figurato nelle ultime Olimpiadi giovanili che si sono svolte a Buenos Aires. Partiamo da qui. È stato un avvenimento eccezionale soprattutto per la palla a mano perché è la prima volta che andavamo all'Olimpiadi quindi io come responsabile sono orgoglioso del gruppo e sono orgoglioso di come sta andando il beach handball in Italia. Speriamo ora, abbiamo gli europei, i gioielli mediterranei, una lunga catena di eventi, speriamo proprio che insomma mantengono le premesse, le ambizioni che noi abbiamo tutti i giorni. Da quanti anni il beach handball insiste in Italia? È conosciuto? Ma in verità il beach handball è stato inventato agli italiani, noi siamo bravi a inventare le cose. Avete anche scritto il regolamento? Sì, abbiamo anche scritto il regolamento e poi dopo magari gli altri prendono spunto e non diventano migliori perché noi ce la capiamo ma insomma ci danno fiducia da torcere. Diciamo ai primi anni 90, nel 90 poi Pana Piano è esploso come sono esplosi un po' tutti i gioi da spiaggia, i gioi da spiaggia in questo momento stanno andando fortissimo anche perché c'è già il pubblico. Crei l'evento, crei un evento a Viareggio, a Forte dei Marmi, a Sanremo, a un milione di persone sulla spiaggia ci sono già, basta catturarli e farli vedere uno sport. Quindi ci sono degli scontri positivi. Allora a questo punto chiedo a Massimiliano Bardini perché un ragazzo, un giovane si dovrebbe avvicinare al beach handball? Ma innanzitutto perché fa il fisico, quindi è chiaro, ma a parte le battute, insomma è uno sport ormai olimpico, è uno sport riconosciuto, è uno sport che ti può dare grandissime soddisfazioni come quelle ci stanno dando a noi. Abbiamo parlato della nazionale maschile però c'è anche una nazionale femminile. Certamente, la nazionale femminile, anzi la nazionale femminile è un blocco ormai già organizzato, noi andremo ora in Francia, invitati dalla Francia, che per noi nella palla a mano è un orgoglio perché è la più grossa nazione, diciamo, come movimento nella palla a mano. Quindi faremo tutto un giugno con Parigi, Romania, un torneo poi in Italia, andremo agli europei in Polonia, insomma gireremo completamente Europa e tutta l'estate. Siete stati con la vostra nazionale qui ospiti a Chieti, però probabilmente, anzi noi lo speriamo, nel 2020 tornerete per i mondiali a Pescara. Sì, tra l'altro ci siamo trovati benissimo perché sia l'Ottorale di Chiacone sia il Plant & Beach sono stati due posti dove veramente abbiamo lavorato in maniera ottimale. Per Pescara dei momenti qualche problematica c'è, vediamo se le amministrazioni si metteranno d'accordo, io vorrei tornare il più presto possibile anche solo per allenarmi. Grazie.